Sindaco Maurizio Marchetti, siamo in prossimità della sesta edizione di Francigena in Fiore, una manifestazione importante che viene svolta nonostante sia una fase molto difficile sia per il commercio nazionale che per quello locale. Indubbiamente il momento è difficile, questo ce lo continuiamo a dire, ma perché diciamo poi la verità, è veramente dura in questo momento. Ma noi cerchiamo di andare avanti per la nostra strada, la collaborazione fra amministrazione e centro commerciale naturale è ormai consolidata, questa iniziativa del weekend successivo alla Pasqua è un'iniziativa che ha sempre riscontrato grandi successi. Ci auguriamo che il tempo ci aiuti e entra in un contesto dove ci sono altre iniziative nella Piana di Lucca e a Lucca, ma credo che il concetto, visto che noi poi l'abbiamo ormai battezzata dalla prima edizione Francigena in Fiore, che sia quello di promuovere a Lucca e nella sua Piana un percorso nel Verde che trova ad Alto Pascio in questo weekend sicuramente uno scenario ottimale, bello. Qualcuno obietterà che ci può essere una sovrapposizione con l'inizio di Verde Mura, manifestazione storica lucchese? Ma io non parlerei di sovrapposizione perché poi quando le iniziative funzionano io credo che ce n'è per tutti e in questo caso non a caso sottolineavo l'aspetto dell'aver chiamato noi al tempo Francigena in Fiore e in qualche modo per questo weekend di utilizzare questo percorso storico, questa strada storica, la via Francigena che è un collegamento naturale fra Lucca e Alto Pascio e viceversa ovviamente che in questo caso vede iniziative legate all'ambiente, legate al Verde che partono da Alto Pascio e arrivano a Lucca o viceversa partono da Lucca e arrivano a Alto Pascio. Perciò è importante, principale è che ci sia un bel weekend, un bel weekend di sole, una bella stagione e vedremo che sicuramente in questo caso Lucca e la Piana sarà un polo di attrazione, un polo interessante dove si parla di ambiente, dove si parla di fiori, dove si parla sicuramente di scenari interessanti.